Milano rappresenta l'eccellenza del nostro basket, quindi tutte le sfide contro di loro sono affascinanti. Affascinanti perché, come dicevo, rappresentano il meglio. È una squadra che ha fatto un inizio di stagione molto, molto importante. Queste vittorie, l'impattibilità in campionato e anche un'Eurolega di altissimo livello. Poi nelle ultime partite c'è stato qualche passaggio vuoto dovuto a un fisiologico calo che ci possa essere. Devo dire che sono da ammirare perché giocare tante partite così ravvicinate in un poco tempo è un sacrificio enorme, un grande dispendio di energie fisiche e mentali e loro lo stanno facendo nel miglior modo possibile. Perché poi dopo anche, nonostante tutte queste partite, poi loro vanno a Sassari, è una partita molto difficile. Sassari gioca benissimo e loro stanno lì veramente fino alla fine con la testa per vincere la partita. A livello numerico è la migliore squadra del campionato a livello di punti segnati. La prima come percentuale da tre punti, la prima come percentuale da due. Inutile stare a parlare di tutte le eccellenze di giocatori che hanno loro perché potremmo parlare benissimo di tutti perché sono giocatori di alto livello, altissimo livello e quindi parliamo dell'allenatore che li tiene assieme molto bene, li fa giocare un basket molto efficace, molto consistente. Insomma, detto tutto questo, se stiamo a guardare Milano ci spaventiamo. Ci spaventiamo e allora di conseguenza non dobbiamo pensare a loro, dobbiamo pensare a noi stessi con la solita umiltà da una parte e fiducia nei propri mezzi dall'altra, cercare di fare la nostra miglior partita senza stare a guardare il punteggio, senza stare a guardare il tabellone, ricordandoci solo che quando abbiamo iniziato quest'anno abbiamo giocato un torneo contro di loro, abbiamo perso di 30 punti. Ecco, forse partendo da quei 30 punti che abbiamo preso, cercare di vedere quanti passi avanti, quello che abbiamo fatto di meglio, siamo cresciuti obiettivamente, però dobbiamo dimostrarlo anche sul campo quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un buon percorso, ecco, dobbiamo avere, ripeto, pensare a noi, alle nostre cose, a fare la nostra partita senza essere intimoriti di tutte le loro eccellenze, le loro grandi qualità, ma fare quello che sappiamo fare, poi senza preoccuparci se loro riusciranno ad andare sopra oltre la nostra difesa, oltre il nostro sistema di offensivo. Non ci deve assolutamente impensierire. L'ultima cosa da fare è stare a preoccuparsi del punteggio, guardare il punteggio e così via, ma fare con serenità, fare con fiducia la nostra miglior partita, dopodiché saremmo già proiettati alla partita successiva contro Cantù. Visto che non c'è tanto tempo, si gioca domenica e martedì, bisogna essere già automaticamente, anche non dopo, ma anche prima della partita, pensare già alla doppietta domenica e martedì. Grazie.